Ricetta. Gamberi al forno con cavoli e gorgonzola. Una delizia facile da preparare. Gamberi al forno con cavoli e gorgonzola. Ingredienti. Gamberi. Cavoli. Gorgonzola. Preparazione. Preriscaldare il forno a 200 gradi centigradi. Lavare e tagliare i cavoli a fette sottili. Dispore i gamberi e i cavoli in una teglia e condire con un filo d'olio, sale e pepe. Cuocere in forno per 20 minuti, finché i gamberi non diventano rosa. Aggiungere il gorgonzola e farlo fondere per altri 5 minuti. Servire caldo.